È un pezzo che dedichiamo a una persona questa volta, questa volta, perché normalmente non dedichiamo mai. Paoletta, questo pezzo è dedicato a te. Io non ne ho un'idea, però mi hanno detto ti prego, ti prego, dedicano a Paoletta. E quello che non ti piace? Ah, per quello? Allora è dedicato a tutti, meno che a Paoletta. Vi state divertendo per caso? Io, qualunque sia stata la risposta, la prendo come un sì. Daniela? No, si chiama qui, non è. Non so come si chiama. Dedicato a tutti voi. Ciao. 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 Grazie. 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 Vieni Paola, vieni to piacet.